Per la prima volta sono stati arrestati dai carabinieri del NOE due imprenditori per l'inquinamento nel fiume Sarno. Dal loro pificio che si occupa di vernici, l'euro galvanica di Torre Annunziata, già sottoposto più volte a sequestro, sarebbero partiti scarichi abusivi messi nel canale Bottaro, affluente del fiume, contenenti sostanze ritenute tossiche come zinco, rame e ammoniaca. L'ARPAC ha rilevato nelle acque valori superiori di 200 volte il limite consentito per lo zinco, compromesso suolo, sottosuolo e acque superficiali usate nell'agricoltura, con il conseguente pericolo per la salute umana, come ha chiarito il procuratore torrese Annunzio Fraiasso, un problema che va affrontato con una programmazione seria anche sul territorio, chiariscono gli ambientalisti. Bisogna coinvolgere popolazioni ed amministrazioni per portare a termine un grande progetto, il grande progetto del fiume Sarno che possa garantire innanzitutto un disinquinamento dal punto di vista degli scarichi cosiddetti civili, quelli delle nostre abitazioni e poi di quelli industriali. Il nostro sogno come ambientalisti è che si possa realizzare anche lì un contratto di fiume. È un primo passo importante nella battaglia difficile che stiamo conducendo da anni contro chi continua a sversare impunemente ogni sorta di rifiuto nel Sarno, precise il consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che continua, adesso ci aspettiamo, pene esemplari e che l'inchiesta vada avanti.